Domenica inauguriamo questo circolo culturale dedicato a Carla Fucci che Antonio Giamarioli, cioè mio papà, ha tanto voluto per ricordare Carla e portare avanti non solo il suo nome, ma anche tutte quelle che erano le sue passioni e soprattutto la grande passione per il teatro, era una grande lettrice di teatro e quindi in qualche modo per non dimenticare ma senza nessuna tristezza e malinconia perché Carla era una persona molto vivace, molto solare, quindi così la ricorderemo facendo eventi culturali come a lei piaceva e come lei tanto aveva voluto. Nello specifico che cosa accadrà? Dunque domenica proietteremo un video musicale prodotto da Paolo Casisa e faremo una lettura di una breve novella dal titolo L'attrice, una novella francese, questa la leggeremo io, Paola Maggi e David Berardi e quindi con questi due eventi inaugureremo questo circolo, staremo un'oretta insieme, poi faremo un piccolo aperitivo e poi ogni due mesi organizzeremo un evento il 13 di ogni due mesi, il 13 era il giorno di nascita di Carla e quindi per portare appunto avanti tutto quello che mia mamma amava.